Grazie a tutti Buongiorno Non è che hai visto dei bambini atti così? Con i capelli un po' così Con il gibatto così Che urlano o四 stär no ovunque No Ecco, lo sapevo Primo giorno di lavoro è già fatto il danno Ma... Cara, ma sei tu? Sì, fra il l'unico lavoro che sono riuscito a trovare Qui di fortesia Non dità nessuno Sì, scusa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non abbiamo un limone, non abbiamo un limone da un limone a palla. Non abbiamo un limone a palla veramente. Questo della seconda serie.